La raccolta, la raccolta, la raccolta, la raccolta, te postino da tante cortellate, per quanto hai messo a te te l'arciprede. Siamo tutti cittadini a raccolta per l'assemblea pubblica che abbiamo indetto il 4 gennaio alle ore 11, per far conoscere questa situazione clarissima. 100 persone che vanno a casa e famiglie comprese che non avranno più gli stipendi. Quindi seguiteci durante le nostre mobilizzazioni, la prima chiaramente domani apre la prefettura, alle 9 tutti quanti là davanti e poi il 4 gennaio faremo un'assemblea pubblica qui dentro il canile. Grazie e rugate, sopportellate quante le volete.